Al centro del dibattito in Consiglio Comunale, la missione Insieme Libertà di Leonardo Ciaccio, ex braccio destro del boss Matteo Messina Denaro, che da alcuni mesi lavora nel polo museale docesano di Sulmona. La consigliera Teresa Nannarone, con un ordine del giorno, ha ribadito la forte preoccupazione per la presenza dell'Ergastolano in città. Il rischio che possa creare contatti rimane alto anche per il sindaco Gianfranco Di Piero, che ha chiamato in causa Prefettura, Forze dell'Ordine e Direzione del Carcere Peligno per gestire la situazione con un presidio di sicurezza. Di Piero ha ribadito che il protocollo antimafia, adottato dal Comune per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata, non è stato violato, rassicurando ai presenti che la situazione sarà monitorata con attenzione. Leonardo Ciaccio, dopo 20 anni di detenzione, ha ottenuto la semilibertà per buona condotta dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, un provvedimento impugnato dalla Procura Generale della Corte di Cassazione. Dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, Ciaccio esce dal carcere di massima sicurezza di Sulmona, dove è recluso, per prestare il servizio da volontario nella biblioteca del Museo di Piazza Garibaldi.